bello ci sono quelli che soffassano io proporrei di superare anche noi è bella però bello go go non incita go go a me piace sentirci si spiega si spiega si spiega si spiega wow oh wow no è bello così si chiama scorciatoia questa per tornare a casa bello bello vai 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 go go si trattava bene Sì E' bello, abbiamo fatto la scorciatoia vediamo se riusciamo, bello centrato Sì, ce n'è diversi, di qua ce n'è un'altra E' il centrato? Molto giusto Vai Very nice Wow Ma io mi immaginavo la Condopolita Sì, certo E' come quella che abbiamo visto oggi E' stavo dicendo che andrà a mangiare E' stavo dicendo che andrà Ok, grazie